ciao ragazzi siamo con christian ciao ragazzi ciao luca ciao christian dunque dopo quanto tempo di frequentazione mi consigliate di organizzare un weekend fuori porta allora qui ti dico dipende dipende come va il rapporto ti dico io ho avuto conoscenze durante il periodo del covid che sono iniziate dai weekend fuori porta però c'era una chat che era molto ben sviluppata ed era una situazione anomala per certi aspetti me la ricordo ancora è successo siamo stati anche contenti essere sincero tuttavia ti dico secondo me bisogna avere almeno almeno un 32 3 appuntamenti e un periodo di chat che sia almeno di 23 settimane almeno ok direi così maniera tale che la ragazza inizia ad abituarsi anche al fatto che tu possa essere a suo fianco mentre andate a dormire che deve magari spogliarsi piuttosto che girare in intimo per la stanza eccetera eccetera che non sia disagio perché cioè si deve quella cosa non deve metterti a disagio un po di quella confidenza ci vuole un po per arrivare a quello step non è proprio immediato ok non è scontato non è dovuto e serve un po di tempo perché la questo tipo di rapporto è un po di chat è un po di frequentazione po di live se baciate la ragazza meglio questo è una spinta in più e questo è quanto grazie saluto